Una signora, una signora con lunghi capelli, con la lunga treccia, che non sono le lunghe trecce, gli occhi azzurri e poi chissà che, che cantava quel noto cantautore italiano. No, questa signora dalla lunga treccia è basta, la signora Clop, credo, se non sbaglio, se non vado errato è proprio Clop, porta avanti questa politica in qualche modo che disegna degli scenari fantastici e in questi scenari fantastici vediamo ad esempio che molto spesso viene riportato l'Alto Adige all'Austria, l'annessione proprio dell'Alto Adige all'Austria. Questa è una cosa divertente sicuramente, spesso nella mia mente ho fantasticato su questa cosa qui. Ho detto ma chissà che succederebbe se veramente l'Alto Adige tornasse ad essere austriaco come più di cent'anni fa. Beh, forse ci sarebbero delle cose sicuramente che alla signora Clop non piacerebbero più di tanto. Dopo un po' magari qualche austriaco, qualche austriaco della zona di Vienna o di Salisburgo eccetera, potrebbe iniziare a indicare il Sud Tirolo, i sud tirolesi nello specifico come i terroni, perché sarebbero loro quelli più a Sud. Questa cosa sarebbe sicuramente molto divertente, un po' goliardica ovviamente, senza offesa per nessuno. E poi la signora Clop si arrabbierebbe probabilmente, scatenerebbe le sue ire contro Vienna, cercherebbe di avere un'autonomia finanziaria, ma Vienna ha sicuramente un no teutonico molto diverso dal no italiano, latino che oppone spesso Roma, che però è un po' trattabile, un po' discutibile in qualche modo. La signora Clop probabilmente a quel punto sarebbe anche un po' scocciata e dopo qualche mese, forse un anno al massimo, tornerebbe a stampare gli striscioni e le magliette e gli adesivi, questa volta con scritto torniamo all'Italia, che si stava molto meglio, torniamo a combattere per il sogno, però speriamo che non si realizzi.